Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Garcini. In FIPILI rallentamenti per lavori tra Scandicce e La Strassigna in direzione Livorno e tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Per le statali sull'Aurelia a tratto chiuso per lavori tra i chilometri 317,400 e 315 e 150 tra Stagno e la variante di Quercianella in direzione sud. Tratto chiuso per lavori anche tra i chilometri 274 e 700 e 277 e 750 tra Donoratico e Cecina Centro in direzione nord. Per la viabilità cittadina a Firenze domani tornerà la mezza maratona Firenze e Vivi Città. I provvedimenti di circolazione li trovate sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!